Buongiorno l'archidemia di Morosaro, l'archidemia della medicina per l'anima, il libro dell'archidemia del personaggio di questa edizione, 572 pagine di orchidee, ha tre grandi pregi, costa poco, è semplicissimo, abbiamo scritto io e il mondo. La pianta di oggi è l'aliceara Remember Donald Yamada, è bellissima, è una delle classiche cambia, ma con dei colori veramente molto belli e poiché è da semi, non sono tutti uguali, sono tutte, hanno delle differenze, perché da seme sono fratelli, sono simili ma non sono uguali, perché mentre quelle da meristema sono praticamente una colonazione, sono tutte perfettamente uniti, identiche all'altra, quelle da seme ha questa caratteristica qua che è una riproduzione naturale per cui, mentre la colonazione sono tutti identici, di quelle da seme c'è delle piccole differenze tra l'una e l'altra, alcune sono anche molto differenti, dipende molto dalla stabilità genetica dei genitori e questa aliceara qui è veramente molto molto bella, adesso ne abbiamo un po' in bocciolo se mi interessano per Natale, va bene, allora siamo stati per quattro mesi con la strada del lago chiusa, la strada del lago via Sommorosolo, adesso da sabato sera finiti i lavori, dopo quattro mesi sono stati anche puntuali perché ha dato quattro mesi, ha cominciato il primo di agosto, di agosto, ha finito adesso, ha finito, ha finito, finiscono domani sera, per cui da domenica si potrà venire su dal lago perché è la strada più comoda quella lì, però purtroppo per fare questi lavori qua dobbiamo fare i lavori della pagnatura, ha tirato su tutti i tubi, va bene, allora adesso volevo dire che le interviste hanno avuto un grande successo, soprattutto quella di Adelindo, ma quella di Adelindo non era finita perché c'era troppi caratteri, più di tanti caratteri non si può metterli, lo posso mettere sul sito, sul sito l'abbiamo messo su tutto, completamente, perché manca l'ultimo pezzo, però questa intervista qua Adelindo, Adelindo è un personaggio fenomenale, Adelindo l'aveva fatta più di dieci anni fa, adesso tre o quattro anni fa aveva fatto un'altra, questa qui la pubblichiamo magari fra qualche giorno, adesso ne pubblico qualcun'altra, rispondete anche voi alle domande dell'intervista, se adesso ne pubblichiamo qualcuna, domani vorremmo pubblicare quella di un ragazzo di 17 anni, bellissima, poi c'è un altro che, allora, perché queste sono interviste vecchie di più di dieci anni fa, c'era quella di, come si chiama, quella la metto su dai, stasera metto su quella lì, questo ragazzo di 14 anni di Genova, è un'intervista bellissima, ma sono tutte bellissime, rispondete alle 11 domande dell'intervista, se non volete rispondere proprio a tutte, 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 rispondete alle più importanti che sono la prima e l'ultima, la prima è come ti sei appassionato l'orchidee, e l'ultima è la tua passione per l'orchidee, hai influito sul rapporto con te stesso, con chi ti sta vicino? E qui se non volete fare le risposte veramente sia la prima che l'ultima, bellissime, ma sono belle tutte le interviste, anche le altre domande, però se volete rispondere a tutte, rispondete queste due qua. Ci sono delle interviste che sono veramente fantastiche, una molto bella è quella di una signora di Vicenza, che questa è più di forse 12 anni fa, e ha scritto, questa qui, secondo me è una veramente che dice, io quando sto con le mie orchidee mi rassereno, e la mia serenità si trasmette che mi sta vicino. Questa qui è una cosa bellissima, fa capire che questa qui magari uno passa qualche minuto con le sue orchidee, si rasserena, e è contagiosa questa serenità, perché la mia serenità si trasmette che mi sta vicino è bellissimo, questa la ritengo una delle più belle, ma sono tutte belle comunque. Adesso me ne metto su, per un po' di tempo me ne metto su una, magari ogni due o tre giorni, se no magari vi annoiate se ne metto su tutti i giorni. Ogni tre o quattro giorni stasera metto su quella di Gabriele Gianardi, questo ragazzo qua di Genova, e questa è un'intervista di 10 anni fa e forse più, e adesso l'ho sentito recentemente questo ragazzo qua, che adesso mancava pochi esami a diventare medico, a laurearsi in medicina. È un ragazzo veramente fantastico, va bene, dai, a domani.